Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. No crime, no crime. Try to calm your painful soul. Moonlight had my heart persuaded. Cold moon in deep water. What you say won't go for. Hi, come closer. Time goes over our crimes. Worries, worries, worries will go by. Find the sights all tonight. My heart was supposed to die. To die. To die. Allora, questo avete visto è il primo videoclip interamente realizzato dall'intelligenza artificiale. Si parla molto, lo sapete, in queste settimane di intelligenza artificiale, dei protocolli che mancano, dei pericoli, dei rischi. Sapete, insomma, che il nostro paese ha vietato in qualche modo l'accesso, è stato vietato l'accesso a un sito per problemi di privacy. Insomma, adesso ne parleremo e soprattutto ne parliamo con Don Andrea Ciucci, che è autore di questo libro. Scusi, ma perché lei è qui? Storie di intelligenze umane e artificiali, con la prefazione di Maria Chiara Carrozza, Don Andrea Ciucci è coordinatore della sede centrale della Pontificia Accademia per la Vita. E... dove fate un gran lavoro da questo punto di vista, no? Leggo. Lavoro per un ufficio vaticano che raduna più di 160 grandi scienziati provenienti da tutto il mondo. Diverse nazionalità, campi di specializzazione, cultura e fedi religiose, una sola frontiera, all for good, l'intelligenza artificiale per il bene. Un viaggio entusiasmante, insomma, tra vari paesi, tra uomini, robot, computer quantistici e il futuro che è già qui. Un gran bel viaggio, ma è pericoloso? È pericoloso, ma è soprattutto sfidante. È pericoloso perché impone delle responsabilità e delle responsabilità in un campo che effettivamente conosciamo poco. E quindi ci è anche chiesta un po' di sperimentazione. Non ci muoviamo con la facilità che potremmo avere in altri campi e in altri contesti. E d'altra parte è una responsabilità che dobbiamo assumerci perché mi pare che, come giustamente diceva lei, il tema è così potente e così forte che sta davvero mutando l'esperienza degli uomini e delle donne di questo tempo che non possiamo non occuparci. È un tema che comporta dei rischi. Quello che è accaduto in queste settimane con il blocco che abbiamo visto, secondo lei sono rischi concreti? Credo che ogni grande innovazione tecnologica, soprattutto di quelle trasversali, cioè che non modificano soltanto un settore particolare della vita, ma le attraversano tutte offrendo davvero un nuovo orizzonte, un nuovo paradigma, sono complesse e come tale certamente anche pericolose. Soprattutto perché, ed è il lavoro che da sempre dobbiamo fare, dobbiamo riandare a custodire gli uomini e le donne, soprattutto chi fa più fatica o ha meno strumenti, in un contesto, in un paradigma nuovo che certamente impone un riposizionamento, impone una nuova comprensione, impone delle nuove regole. È lavoro da fare. Senta, qual è, come viene definita, l'intelligenza artificiale per il bene? Cosa vuol dire applicare l'intelligenza artificiale per il bene? Vuol dire che, questa frase non è nostra, è stata coniata, ha avuto forse la sua consacrazione in alcuni incontri alle Nazioni Unite e a Ginevra, questo per dare l'orizzonte, no? E I for come, I for good, no? Queste due parole. Si riconosce che questi strumenti sono incredibilmente potenti, davvero ridisegnano l'esperienza dell'uomo in questo tempo e in questo mondo e come tale riconosciamo che abbiamo bisogno di utilizzarli per il bene. Abbiamo una grande chance. Abbiamo una grande chance che non possiamo sprecare. Però, come si fa? Lei ha detto ridisegnano. È vero. Invece il timore è che cancellino la funzione e la presenza dell'uomo. Lei sa che quello che si dice più spesso è che poi, appunto, un software ci sostituisce e farà quello che oggi facciamo noi. Io stessa, nei giorni scorsi, ho provato con quella chatta a comporre delle cose sicuramente da perfezionare perché venivano fuori delle cose un po' surreali, diciamo, ecco, non era proprio perfetta, con dei grossi limiti. Quindi sicuramente da migliorare, però il timore è quello, no? Che domani questa cosa qui possa sostituire noi, essere umano. E' una cosa che capita sempre nei momenti dell'innovazione tecnologica perché la lavatrice non ha sostituito, e meno male che ha sostituito il lavoro fisico di tante donne che passavano ore e ore chinate per lavare i panni. Certo che lo ha fatto, e meno male che è successo. Però le faccio un altro esempio. Un mio collega, credo ungherese, ha pubblicato subito dopo l'uscita di questi giorni un post dicendo ho fatto scrivere la mia predica da un'intelligenza artificiale e i miei parrocchiani non si sono accorti la differenza. Ora lì il problema, se permette, non era la predica fatta dall'intelligenza artificiale, erano le prediche fatte dal prete. Perché vuol dire che dovevano essere assolutamente neutre, incolori, minimamente slegate dal contesto, fredde. Cioè il problema non è l'intelligenza artificiale. E questa è la questione interessante. Anche le nuove tecnologie, in realtà, il vero problema non sono loro. Loro pongono e lo ribaltano su di noi, su chi siamo e su cosa vogliamo fare, sull'originalità che poniamo. Quindi c'è anche un problema però di comunicazione, di come far affrontare quello che può essere una svolta e un grande potenziale alle persone che si trovano a dover accogliere questa novità. Perché lei sa meglio di me, che comunque la paura è qualcosa che ci appartiene e che comunque si prova nei confronti del nuovo. Certo. E dobbiamo assumerla. E guai a banalizzarla. E guai a dire no, ma non è niente. E come si fa? Lo si fa nell'ordine dell'educazione. Lo si fa nella costruzione di una consapevolezza. Io dico sempre ai ragazzi che incontro, voi sapete più o meno cosa fare con il vostro smartphone, ma non avete la benché minima idea di che cosa il vostro smartphone fa di voi. Questa è la questione. Si cresce di consapevolezza e si cresce anche di coscienza collettiva e sociale. E ci mancherebbe il grande lavoro che dobbiamo fare. Santa, lei se domani al suo posto in una chiesa ci dovesse essere solo un altoparlante che diffonde una voce di un'intelligenza artificiale che ha scritto una predica, un'omelia... Credo che la chiesa sarebbe vuota, non ci sarebbe niente di interessante. Lo facciamo già, mi attacco a YouTube e mi sento la predica del predicatore di turno o del prete simpatico che mi sta... Non entro neanche più in chiesa, quindi sto a casa mia. Esatto, però ci perderebbe. Non è quella la faccenda. Non è lì la faccenda. Che storie ci sono di intelligenze umane e artificiali in questo volume? Ci sono storie variegate per tipologie di personaggi. Abbiamo scienziati, abbiamo politici, abbiamo cuochi, abbiamo ingegneri, abbiamo frati. Per geografia davvero si parla di tutto il mondo. Storie estremamente piccole come i disegni dei bambini o degli orfani dell'Iran e storie incredibilmente grandi come l'incontro tra i potenti della Terra su questo tema. Perché appunto questa questione attraversa tutti. E mi piace dirlo, attraverso ognuno con la sua originalità. Qualche settimana fa ho incontrato una grande studiosa di Hong Kong dell'intelligenza artificiale e mi ha fatto vedere la sua tabella dei principi di etica dell'intelligenza artificiale in chiave cinese. Perché è il modo con cui in qualche momento il modo si sta regolando. Beh, è interessante. La lista dei principi cinesi inizia con la parola armonia. che è completamente diversa da quelle che usiamo in Occidente. Tutt'altro tipo di cose. Ecco, il bello della partita è questo. Che noi stiamo vivendo un fenomeno che è assolutamente planetario, che è sempre istantaneo perché ha una velocità pazzesca, ma lo stiamo vivendo ognuno con la sua originalità personale e culturale. E il bello del gioco è se riusciamo a non farcela piattere. Quella che lei ha definito una partita, su questa partita appunto, da lei così definita, voi investite molto. Credo di sì, perché alla fine che ci sta a fare la Chiesa e che ci stanno a fare i preti se non a custodire gli uomini e le donne e i più piccoli. Ah, e quindi diciamo siete proiettati sul futuro. Volevo tornare un attimo al blocco della chat, chat GPT, perché oggi c'è un articolo sul messaggero, i pro e i contro dell'intelligenza artificiale e i protocolli che mancano. E scrive Ruben Razzante, il blocco temporaneo previsto dall'articolo 58 del regolamento europeo sulla Praeva si è stato imposto dal garante sulla base di quattro motivi. Mancata informativa sul trattamento dei dati, assenza di consenso per l'addestramento dell'algoritmo, risultati inesatti, assenza di un filtro per impedire a chi ha meno di 13 anni di accedere a chat GPT. Pensa che sia giusto, che sia stato giusto bloccarlo in Italia? Onestamente non lo so e forse men che meno la santa sede entra a commentare un gesto di un'altra nazione, però questa cosa mi pare che dica una questione seria, e cioè ci stiamo rendendo conto che un fenomeno così potente non può essere lasciato così, ma chiede delle regolamentazioni e chiede delle tutele. Questa è la questione. Va comunque regolamentato. Assolutamente sì. Ci si ferma un momento, si regolamenta e poi si riprende. Ci si ferma un momento, non so se è semplicemente una cosa bella, è stata proposta anche da grandi personaggi, uno dei firmatari è Joshua Benjo, è anche in quel libro lì che racconta, è uno dei grandi esperti di machine learning del mondo, non so se ha senso dire ci si ferma un momento, non so neanche se è possibile. Però certamente nel contempo non possiamo permetterci di fare questa cosa. L'Europa è certamente uno dei grandi attori, l'Artificial Intelligence Act, che è la grande regolamentazione che in questo momento è in discussione, è per esempio uno degli strumenti con cui ci stiamo muovendo, e a maggior ragione di tutela nei confronti dei minori o di chi ha meno consapevolezza sulla cosa. Voi lavorate con grandi partner, no? Che sono impegnati su questo fronte. Sì, noi abbiamo la fortuna e anche la responsabilità di lavorare con i più grandi, in assoluto con i più grandi. È vero, è stato anche questo, come ha iniziato lei dicendo, una scommessa. È possibile provare anche a parlare con i più grandi players del mondo di questa cosa? Ci stiamo provando, abbiamo ottenuto anche dei risultati, abbiamo ottenuto anche una certa disponibilità, abbiamo trovato dei luoghi e degli spazi con cui riflettere su questi temi, e meno male. Senta, l'intelligenza artificiale, è ovvio che tutto dipende da come viene declinato, ma non ha un po' il timore che possa crescere quel divario sulle diseguaglianze? Assolutamente. Chi può, molto può. Chi non può, non può accedere neanche all'intelligenza artificiale. È un divario tra generazioni, gli anziani che si trovano completamente smarriti davanti a certi oggetti, è un divario tra ricchi e poveri, assolutamente, perché è clamorosa, sono oggetti e operazioni incredibilmente costose, assolutamente, e quindi a maggior ragione è necessario un intervento etico e, come direbbe il Papa, è necessario un'algoretica, cioè una riflessione etica di fondo sull'algoritmo e tutto quello che naturalmente c'è dietro. Ne consegue. Grazie, grazie a Don Andrea Ciucci, scusi, ma perché lei è qui storie di intelligenze umane. Grazie a voi. Ma anche umane. Grazie a Don Ciucci. Andrea Pancani, Coffee Break. Noi ci rivediamo domani mattina. Arrivederci. Grazie a Don Andrea Pancani, Coffee Break.